Oggi un dolcino chue chue, una cosa ambressa ambressa. Mi chiedete sempre cose facili e senza cottura, vediamo se vi accontento. Avremo bisogno di 250 grammi di mascarpone, 100 grammi di panna, della crema di pistacchio, un po' di lingue di gatto e della granella di pistacchio, volendo qualche ciuffetto di panna. Montiamo insieme il mascarpone con la panna. Chiaramente, volendo alleggerì, mettete lo yogurt. Eccolo qua, giusto che viene un po' sfumoso. Aggiungiamo qualche cucchiaio di pasta di crema, di pistacchio. Direi che per lo zucchero ci regoliamo, assaggiamo. Buonissimo. All'incirca ho messo un 70 grammi, così. Metto in una sacca poche, giusto per dare una forma un poco così. Nella crema, se qualcuno riesce che ha la pasta di pistacchio, è meglio, però io non la riesco a trovare se non online. Io direi di non esagerare, con moderazione. Ho fatto un conetto di carta forno. Una volta, tenevo la mano ed ero brava. Questa è un po' sfumoso. 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 Diciamo che con queste dosi vengono 5 coppette all'incirca, poi si vuole fare i bicchierini più piccoli così ne otteniamo qualcuno in più. Vabbè, mangio sacrificato. Passiamo prima in frigo, però io mi sacrifico subito. E' buonissimo, buonissimo. Queste lingue di gatto, va bene così semplice.